La nuova Camera di Commercio delle Marche aderisce alle iniziative Eccellenze in Digitale e PID, punto impresa digitale, previste a livello nazionale. Così sono iniziati i seminari presso la sede territoriale di Macerata, sette appuntamenti, l'ultimo il 22 gennaio 2019, per supportare ed affiancare le imprese nell'impostazione e ottimizzazione dei piani di comunicazione digitale. Anche la Camera di Commercio delle Marche sarà su questo settore. Oggi siamo qui a Macerata, continuando questo progetto, perché oggi più che mai le imprese, specialmente le piccole o le piccolissime imprese, con la digitalizzazione, con l'innovazione tecnologica su alcuni settori importanti come il web, possono veramente dare un valore aggiunto alla propria azienda. Secondo me riusciremo a dare quella prospettiva di visione per il futuro a un mondo imprenditoriale che magari è un po' distante dall'innovazione del web, all'innovazione dei vari percorsi tecnologici, di come presentarsi magari sui mercati, come poter trovare quelle zone più idonee per l'apertura di un'attività, anche tramite il web. Perciò di conseguenza, oggi più che mai la Camera di Commercio deve essere un facilitatore di conoscenza per il mondo imprenditoriale e tutelare quelle imprese che hanno voglia di crescere e di restare sul mercato. Il progetto Eccellenza in Digitale nasce dalla collaborazione con Union Camere e Google Italia per far fronte alla crescente domanda di presenza sul web delle imprese ed è giunto alla quinta edizione. Un percorso che nelle quattro precedenti edizioni ha avuto molto successo e quindi non potevamo non continuare a sostenere il territorio con un'iniziativa di questo tipo. Incontri che si svolgeranno a partire da oggi fino a metà gennaio proprio per capire quelle che sono in maniera molto operativa le strategie migliori e da mettere in campo per creare e sviluppare le potenzialità digitali delle aziende. Quello che abbiamo notato e dai dati che abbiamo letto è che oggi le aziende sono ancora un po' lontane dal capire le potenzialità di questo strumento che non è la soluzione a tutte le esigenze, a tutte le criticità ma è appunto un coadiuvante nell'applicare poi ulteriore strategie di potenziamento, di comunicazione e di commercializzazione. L'auspicio è che le aziende partecipino perché due aspetti non poco rilevanti. Il primo è la gratuità, quindi un percorso formativo e un'assistenza individuale completamente gratuita e con dei partner di grande prestigio come sono i digitalizzatori della Helios di Camerino, quindi un'azienda del territorio che con le proprie eccellenze professionali sta sostenendo le imprese. E allora andiamola a sentire la digital promoter della Helios, Chiara Ercoli, che insieme ai due digitalizzatori Eleonora Paganelli e Stefano Logrippo si metterà al servizio delle imprese maceratesi. Il progetto si divide in due macrofiloni che è il PID e le eccellenze digitali. L'eccellenze digitali è più rivolto a tutto il mondo internet e quindi l'importanza di avere un portale web, il mondo del social, tutti gli strumenti che Google mette a disposizione per le aziende per lavorare e ottimizzare i propri processi. Il PID invece è un progetto più orientato alle aziende e a tutto il mondo della digitalizzazione, dei processi e tutte le tecnologie innovative che il mondo 4.0 mette a disposizione. In entrambi i casi abbiamo delle risorse che sono qui a disposizione per le aziende il martedì, il giovedì e il venerdì mattino oppure su appuntamento anche presso l'azienda per poter fare un primo colloquio e monitoraggio di quello che l'azienda ha e definire anche se l'azienda vuole un percorso di digitalizzazione affiancato a degli esperti appunto. La Ercoli fa anche un appello alle tante aziende ancora lontane dalla digitalizzazione. Mettetevi in gioco nel senso che ovviamente il digitale oramai rappresenta il futuro anche per le imprese più tradizionali quindi siamo qui a disposizione per confrontarci, per farvi vedere cosa il mondo sta facendo, cosa si può fare e affiancarvi in maniera del tutto volontaria ad avvi delle idee e improntare magari delle progettazioni insieme per individuare anche dei possibili finanziamenti come i voucher della Camera di Commercio per poi concretizzare quello che è la progettazione.